un sorriso ragazzi di cavour saluta ha scritto? no saluta saluta no quello lì è rotto non va no è rotto perchè è rotto e basta basta dai allora io rabbio da cambiare le sedie te lo giuro non fare io no non va perchè è rotto quando fa così perchè non va no 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 è rotto come il berretto no 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 lascia perdere vedi ora non è più rosso allora se cominciate a fermare io cambia dai no dai ha chiuso dai ha chiuso non è più rosso hai visto ma perchè non hai documenti in regola 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 vabbè via taied dove vai? mentre ci chiusuro ris philanthropy ci chiusura grazie